Nella storia del Taekwondo Irpino ci sono stati due titoli italiani assoluti, uno dietro l'altro. Di fatti questo fine settimana nella triatic arena di Pesaro ci sono stati i campionati italiani per la categoria cadetti e juniors. Io avevo diversi atleti schierati in campo e tutti ben preparati ed ovviamente siamo riusciti a bissare due risultati importanti con Erminio e con Pietro. Che gioia è per lei questo risultato visto che comunque sono arrivati tanti risultati personali lo scorso anno e adesso ci sono questi risultati importanti a parte dei suoi ragazzi? Sì, partiamo subito col dire che noi da quattro anni siamo costantemente a rappresentare l'Italia sia per quanto riguarda il settore del Taekwondo e l'anno scorso io ho avuto questa esperienza con il Ciambara molto molto bella in Francia per i campionati europei che tra l'altro ha conquistato una medaglia di bronzo. Quest'anno la gioia è stata doppia. I ragazzi per me non hanno vinto una medaglia d'oro ma ne hanno vinte due. Questo perché se ricordate e vale la pena ricordarlo noi lo scorso anno purtroppo siamo usciti di scena per colpa di una squalifica. Una squalifica perché oggettivamente il problema c'era e quindi quest'anno i ragazzi hanno portato sulle spalle anche il peso del riscatto di questa situazione negativa che c'è stata. Al di là dell'immagine che quella ovviamente è stata distrutta seppur in parte però quindi quest'anno i ragazzi avevano una doppia responsabilità. Quindi riscattare quello che era successo lo scorso anno e dimostrare di essere tra gli atleti più forti e l'hanno fatto alla grande. Quindi doppia medaglia d'oro per entrambi. Per me è come se avessi vinto quattro ore non due. Prossimi tappi obiettivi? Adesso abbiamo ovviamente i ragazzi partiranno per la squadra nazionale. Herminio ho già avuto la, lo posso dire in anteprima, la convocazione, l'ho saputo ieri. Quindi dal 17 al 21 aprile sarà a Roma al centro sportivo dell'Acqua Cetosa. E poi ovviamente subito dopo sarà selezionato anche Pietro. Però noi abbiamo una gara molto molto importante che è la President Cup in Grecia che si disputerà fine aprile. Ed è una gara valevole per la qualificazione mondiale. Ciò significa che questa gara che è stata messa in piedi dalla World Taekwondo Federation dà la possibilità a tutti gli atleti che riusciranno ad agguantare il podio ad avere la selezione di diritto nella squadra nazionale. Quindi in questo caso in Italia. Loro ci sono già fondamentalmente. Però questa potrebbe essere un'ulteriore conferma del loro valore.